Eccoci qua, che cos'è questo pannello? È uno dei nostri pannelli, delle nostre ricorrenze riguardo il nostro allenamento di Natale, come facevamo a non farlo, come facevamo a non pensare di studiarlo, quindi la richiesta siccome è stata talmente alta che pensando con Cesare, con Ricky, con tutti noi abbiamo trovato questa soluzione, facciamo il nostro allenamento di Natale virtuale, è come correre insieme ragazzi, dobbiamo stare insieme, questo è il messaggio, si farà sabato 19 dicembre, la partenza ognuno può partire dove vuole, come vuole e con chi vuole, siccome c'è il distanziamento si tende a correre diciamo distanziati e lontani uno dall'altro, ma bisogna farlo, vi arriverà a breve, a brevissimo, vi arriverà i comunicati attraverso tutti i nostri social, Facebook, Instagram, avrete modo di prenotarvi, una volta che siete prenotati vi arriverà la possibilità di scaricare il pettorale, con il pettorale poi avrete diritto, col pettorale dovete fare la fotografia naturalmente dove siete, come volete e quel pettorale con quella fotografia con il pettorale vi darà diritto al ritiro di un pacco gara, perché cosa non si può fare a meno? Della maglietta dell'allenamento di Natale e in questo caso sarà un pacco gara composto perché abbiamo tanti amici che ci danno una mano e noi potremo dare una mano naturalmente come sempre alla San Vincenzo, qua a Villa Santa, che è da tanti anni con cui collaboriamo. Ringrazio tutti quelli che insieme in questi giorni stiamo mettendo insieme questo allenamento virtuale, vi ricordo sabato 19 dicembre vi aspettiamo, in questi giorni verrà comunicato su tutti i nostri social la metodologia di prenotazione, ci sarà un piccolo contributo che bisogna dare, sarà devoluto interamente naturalmente alla San Vincenzo e così riusciremo anche quest'anno a non far mancare il nostro apporto alle persone che hanno bisogno, che stanno anche aumentando in questo periodo purtroppo. Comunque teniamo duro la corsa, ricordiamoci che è tanta roba, tantissima roba, vi aspetto tantissimi. Bene, prima di salutarvi devo fare dei ringraziamenti, chiaramente il gruppo podistico di Villa Santa, tanti amici, vi saluto tutti, un altro gruppo che mi ruba il cuore sempre, è solo un passo dopo l'altro che è tanto che non li vedo, vi saluto tutti, vi abbraccio e fra un poco riprenderemo i nostri allenamenti a lunedì. Poi ringrazio tutti i miei amici sponsor, grandi, 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 Orto Spine del mio amico Pedro, Monza Marathon Team, grandi, 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 ringrazio Freelive Energy del mio amico Marcello e ringrazio naturalmente FP Auto, naturalmente della Peugeot di Monza Marco che è un grandissimo podista. Ringrazio poi naturalmente che ci dà una grande mano da tanti anni, Brooks che è il nostro sponsor tecnico e che spero di vedere presente naturalmente il giorno, qualche ragazzo di loro ci deve essere, Tobi, Gabriele, Nikita, chi è che c'è? Felice. E poi è il secondo anno di fila che è presente con noi, la rivista più importante, Correre, Correre l'anno scorso ho avuto il piacere di avere il loro stand quest'anno, quest'anno sono presenti virtualmente ma presenti perché nel pacco gara avremo una rivista Correre per tutti e poi avrete la possibilità di fare attraverso un volantino che vi daremo un abbonamento anche annuale con un special prize, ma nel pacco gara vi ricordo ci saranno tante bellissime sorprese, vi aspettiamo sabato 19 dicembre, numerosi, 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 allenamento di Natale virtuale, vi aspettiamo, ciao! Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori che ci saranno